la bottiglia, la vuoi? benneggi Lorenzo, guarda qua, Lorenzo Lorenzo dove sei a te? Lorenzo passavi qua dai, dai non è il vino? non è stai bevendo nooo nooo ahia no comunque ma ma c'è una porta guarda qua guarda qua guarda qua che fa dai la mano dai la mano dai la mano dai la mano si dai 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 dico так dai 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 dico Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.